Don Marco, questa cappella qui nell'ospedale Santa Croce è un crocevia di persone, di sentimenti, di tante cose e quindi è uno dei polmoni dell'ospedale. Sì, io ringrazio chi nel tempi passati ha avuto una grande cura, una grande premura e ha allestito questa meravigliosa cappella. Io credo che sia una delle più belle che troviamo all'interno degli ospedali. C'è stata una presenza continua e costante per tanti anni delle suore, questo ospedale è iniziato nel 1917 ed era gestito da 29 suore che avevano in questo luogo la cappella, il proprio appartamento, il reparto giorno, il reparto notte eccetera. Quindi è stato sempre un punto centrale di questo nostro ospedale. Ce l'hanno lasciato come realità, ci hanno lasciato una storia, una storia di fede, ci hanno lasciato un'immagine bellissima, questo crocifisso che noi conserviamo, che certamente è molto più antico della nascita dell'ospedale. Sicuramente appartenteva alla confraternia della Santa Croce, che sin dal 1600 si prendeva cura, così dicono le memorie storiche, dei poveri mendici. Ecco, quindi questa immagine che, ecco, questo crocifisso ligno di autore ignoto ma certamente molto prezioso, scolpito in maniera perfetta, precisa, che di per sé già ispira la preghiera, la contemplazione, che noi abbiamo voluto anche rivalutare in modo particolare in quest'anno. L'anno del giubileo abbiamo voluto che sia stato il crocifisso messo al centro di tutto, perché la storia della misericordia la si legge appunto, ecco, guardando il crocifisso, prima ancora che ascoltando le parole. E quest'anno vogliamo dare particolare solunità a questa celebrazione, una celebrazione particolare. Noi generalmente la facciamo sempre, ecco, la domenica più vicina alla festa della Santa Croce, che è il 14 settembre. Una festa che per i fratelli orientali, pensate, è paragonabile alla festa della Pasqua. E quindi per noi quest'anno è la domenica 18, quindi domenica prossima, alle 6 e mezza del mattino, 6 e mezza del mattino, poi faremo anche un piccolo momento di colazione insieme, giusto per fraternizzare, no, in questo luogo, ecco, che è il luogo della cura e dell'incontro.